Attraversando Natura, Castrovillari e le terre del Parco Il progetto di marketing territoriale finalista alla mostra d'oltremare di Napoli all'interno dello SMAO Napoli 2015 Miglior Smart Communities Eccellenze Digitali del Sud Italia per la valorizzazione turistica e commerciale della città di Castrovillari e del suo comprensorio rappresentato da 18 comuni limitrofi che arricchiranno la piattaforma digitale già attiva È un progetto finanziato nell'ambito dei PISL che prevede un po' tutto quanto deve essere secondo me il futuro del territorio Innanzitutto un territorio integrato, un territorio in grado di promuovere quelle che sono le nostre bellezze e di farlo utilizzando tutte le risorse che ci sono sul territorio Io penso a questo progetto esecutivo e anche alla reazione dei lavori effettuata direttamente dall'Unical nell'ambito di un progetto più ampio Noi riteniamo che l'Università possa svolgere un ruolo fondamentale come volano di sviluppo della Calabria e della provincia di Cosenza in particolare Il progetto è stato realizzato dalla società Rubric SRL che ha vinto il bando di gara ed è stato presentato presso il Teatro Sibaris Gli interventi sono stati moderati dalla giornalista Francesca Panibianco Il progetto nello specifico riguarda la realizzazione di un portale online fruibile sia in italiano sia in inglese ed in arricchimento di notizie e indicazioni con l'apporto degli enti interessati e delle associazioni E poi un progetto questo che mette in rete tutto quello che noi abbiamo a Castrovillare sul territorio e lo mette in rete attraverso le nuove tecnologie, attraverso un portale, attraverso le app scaricabili, informative appunto di tutto ciò che noi abbiamo anche dei percorsi sul Monte Pollino, degli itinerari così per quanto riguarda la gastronomia, il turismo, le attività ricettive in modo particolare le tante attività culturali che si svolgono a Castrovillari che ci ha portato alla realizzazione di quel luogo di Castrovillari, luogo Castrovillari Città Festival Oltre al portale sono stati previsti una serie di altri punti di accesso Sono state predisposte infatti due zone di connessione wifi ad accesso libero una nel centro pedonale di Castrovillari ed una nel centro storico Sono stati installati circa 90 cartelli dotati di QR code in prossimità dei principali luoghi di interesse turistico in città e lungo due diversi percorsi naturalistici che dalla città si snodano all'interno del Parco del Pollino individuati in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Castrovillari Attraversando Natura, la tecnologia al servizio del territorio? Questo progetto in realtà cerca di coniugare insieme la cultura, la storicità, i beni archeologici, la natura attraverso tecnologie che ormai abbiamo tutti quanti a portata di mano nelle tasche quindi utilizzando smartphone, utilizzando la rete wifi, utilizzando totem interattivi che sono dislocati nella città e tag QR code attraversi i quali inquadrandoli con lo smartphone è possibile acquisire in maniera del tutto autonoma quelli che sono i contenuti relativi alle bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio nel quale noi viviamo e che molte volte non riusciamo ad apprezzare e conoscere appieno Per tutti i visitatori infine sono stati predisposti quattro totem multimediali touchscreen che restituiscono le stesse informazioni presenti sul portale uno è nel protoconvento francescano, uno in piazza Castello, uno nell'area pedonale e il quarto sarà messo all'interno di palazzo di città quando verrà aperto Dell'opera e dell'impegno ne hanno parlato anche Giuseppe Rotolo e Valeria Morgese dell'azienda Rubrik, realizzatrice del progetto, nonché Gianluca Loi, docente Unical direttore dei lavori del progetto, che ha puntato il contributo sugli strumenti tecnologici oltre ad Andrea Tanasio, responsabile dell'ufficio ricerca e trasferimento tecnologico dell'Unical che ha spiegato l'opera di questo incubatore universitario per creare e portare azioni migliorative nei territori senza alterare vocazione e sostenibilità mentre il presidente dell'ente Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, ha richiamato ancora la portata dello strumento che ora tende solo di essere utilizzato al meglio da qui la bella sfida, sicuramente non facile ma non impossibile che si lancia e che propone in veste di sollecitatore il comune con questo progetto alle attività turistiche ricettive per accrescere vocazioni millenarie bisognose solo di passione ed amore per la propria terra e per le proprie radici che sta adibendo ecco per provare Grazie a tutti.